Buongiorno, il progetto Life Trota è un progetto mirato alla tutela di una specie in particolare, la trota mediterranea appenninica. È un progetto che è nato nel 2014 e che si protarrà fino al 2018 e che coinvolge una serie di corsi d'acqua nella regione delle Marche. Prevede numerose azioni, in particolar modo ci sono alcune azioni di tutela degli abitati della specie, in particolare il monitoraggio delle portate estive e ci sono azioni concrete di conservazione per la riproduzione di questa specie in un ambiente che è l'impianto di Cantiano, dove è stata eseguita una totale riconversione per poter permettere ad una specie selvatica di vivere in ambiente controllata per poi essere rilasciata negli ambienti naturali ed infine il progetto prevede delle azioni di eradicazione della trota domestica nei corsi d'acqua appenninici per poter poi reintrodurre la specie nativa che è la trota mediterranea.